e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere questo nuovo film che mi è arrivato tartaluga ninja e la riscossa un film del 90 il primo film delle tartaluga ninja live action aurelio della valentis presente esclusivo film mauro come video fantastiche immagini di copertina film detrato 1990 dvd questo è il laterale tartaluga ninja alla riscossa questo il retro le mitiche tartaluga ninja come immagine del film dobi digital 5.1 andiamo a vedere l'interno del disco un libretto con una specie di copertina dietro le sezioni delle scene e poi poi c'è il dischetto fantastico ragazzi bellissimo e niente mettete mi piace commentate iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli ciao